No, 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 no! Why, why, why? Donald Trump ha vinto le ultime elezioni e tutte le femministe e vari personaggi che supportavano la cultura woke stanno impazzendo nel web. E per il risultato di queste elezioni è appena nato persino un movimento organizzato da alcune femministe americane che intendono creare una protesta contro gli uomini che coinvolgerà tutti quanti. In queste ore sicuramente avrete sentito parlare del risultato delle recenti elezioni americane e di come Trump sia ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. Normalmente avrei detto che ne ha al corrente chi non vive sotto una roccia ma la realtà è che qui se ne sta parlando così tanto che anche chi si trova sotto una roccia ne ha sentito parlare. E anche io l'ho seguito ovviamente non perché sia super appassionato di politica estera anche se un minimo comunque mi piace essere informato e sapere cosa succede ma i motivi principali in realtà sono due. Il primo è che nella politica americana ci sono dei personaggi talmente assurdi e stereotipati da non sembrare nemmeno reale sembra tipo una puntata di una serie tv o di un cartone. E il secondo motivo è che le reazioni ai risultati in questi ultimi anni sono sempre entrate nella storia. La scorsa volta con la sconfitta di Trump e con alcuni sostenitori che hanno cercato di protestare con la serie del Campidoglio mentre la volta ancora prima quando aveva vinto Trump in pochi sanno che è nato uno dei meme più leggendari del web e che sicuramente avrete già visto e causato anche io un po' di volte cioè questo. La prima volta che vedevo questo video come meme io non sapevo che fosse una reazione alla vittoria di Trump ma insomma se vero che la storia si ripete allora ero pronto anche quest'anno a vedere delle reazioni fuori di testa e anche per questa edizione gli americani ci hanno regalato delle reazioni di altissimo livello e visto che ha vinto Trump preparatevi perché ci andremo a vedere le reazioni più folli disparate e divertenti dei vari influencer e tiktoker woke e femministi e alla fine vedremo anche questo movimento che delle femministe stanno cercando di organizzare come protesta visto che chiaramente loro non tifavano per Trump e questo movimento ha delle regole che tutte le donne dovranno rispettare contro gli uomini ed è qualcosa di surreale dunque ragazzi se siete nuovi potete valutare di iscrivervi perché mancano pochissimi ai 230.000 iscritti grazie se lo farete e ora direi di cominciare con quello che forse potrebbe essere il mio preferito madonna questo mi ha fatto pure la doccia con lo sputo che è uscito anche dallo schermo e comunque giudicare dal suo urlo questa ragazza mi sa che tipo il sogno per ogni dentista che non dovrà mai chiedere di aprire di più la bocca vi avverto già che lei potrebbe aver preso il posto di quella con il giubbino giallo e la userò come meme per le prossime settimane ma poi ci sono anche quelli disperati e convinti che da domani finirà il mondo e perderanno ogni diritto sta cosa è abbastanza divertente perché il domani per loro nel momento in cui stavano registrando quel video è già arrivato e mi risulta che non sia cambiato assolutamente nulla e la schiavitù non sia tornata legale come del resto nessuna di queste due cose succederà nemmeno nei prossimi anni questi immaginano che sia il risultato del terrorismo psicologico che hanno fatto in queste settimane anche qui in Italia tra l'altro noi siamo buoni e giusti e loro sono i cattivi e poi c'è gente davvero così fragile che ci creda queste cose quando la realtà è che in fondo non cambierà praticamente nulla nella vita di tutti i giorni tutto andrà avanti esattamente come prima che tra l'altro mi ricordo che anche nel 2016 quando Trump vinse per la prima volta a scuola aveva questa prof che ci faceva spesso lezioni anche su attualità, politica, internazionale eccetera e ci aveva fatto seguire le elezioni americane cosa che di per sé è molto bella il problema è che lei detestava Trump con tutto il cuore e quindi non faceva altro che ripeterci che se avesse vinto lui sarebbe stata la fine del mondo sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale e così via e invece non è successo niente e questa entra senza dubbio nella top 10 cose mai successe nella storia di la verità hai provato a guardare negli occhi quella ragazza sperando di ricevere un po' di supporto ma lei era una di quelle che ha votato Trump e ti ha riso in faccia perché stai piangendo e poi non so come il nostro paese l'abbia fatto di nuovo amica mia fatto cosa? fatto una votazione? e prendendo la decisione della maggioranza? questa cosa si chiama democrazia se la maggior parte delle persone vota un candidato quello vince avrebbe vinto Kamala ma a quanto pare la maggior parte degli americani vuole Trump anche se immagino che sia abbastanza difficile da fare perché ho visto non so quanti post anche da pagine italiane che se ne escono con titoli tipo ha vinto il fascismo la dittatura la fine della democrazia quando è stato letteralmente votato nel senso ci sta che non ti piaccia? puoi dire ha vinto il candidato che a me non piaceva ma resta il fatto che è stato votato in democrazia ma c'è chi non l'accetta perché non accettano che chi ha idee diverse dalla sua possa esistere e avere diritto di dirlo perché quando ti fai corrompere dall'ideologia woke o tutti la pensano come te oppure sono dei mostri e anche le amicizie sono state distrutte da queste elezioni lasciando stare quanto troverò per sempre imbarazzante che si riprende mentre piange penso che mettere in dubbio un'amicizia che dura da un decennio perché hai scoperto che vota un'altra persona sia il perfetto esempio di che è talmente dentro un'ideologia un culto da non potersi permettere di uscire dal suo eco chamber e avere a che fare con chi la pensa diversamente che poi posso anche capire che per un rapporto di amicizia sia comunque importante condividere almeno qualcosa se la pensi in maniera fondamentalmente diversa su tutto è anche difficile andare d'accordo ma se già erano amici vuol dire che questo requisito era soddisfatto e quindi mettere tutto in dubbio per un voto vuol dire veramente aver subito l'avaggio del cervello dai social e dai media ma adesso direi che finalmente è ora di vederci il nuovo movimento che queste femministe infuriate per la vettura di Trump hanno lanciato ma prima alcuni dei miei video preferiti con urli a squarcia come l'ho trovato personalmente molto divertenti sempre un grande classico e adesso arriviamo finalmente al movimento che le femministe americane hanno ideato per farla pagare agli uomini che secondo loro sono ovviamente i colpevoli di queste elezioni e quello che si sono inventate è una cosa talmente ridicola che è difficile pensare che sia reale ma purtroppo o per fortuna lo è e ci sono video con milioni di like di donne che lo supportano e si chiama Movimento 4B che è stato importato dalla Corea del Sud e in qualche modo modificato per gli Stati Uniti ed è partito tutto da video come questi di donne che esprimono il loro risentimento per gli uomini e poi il video di questa qui che addirittura ha fatto il video mentre si taglia i capelli come lotta contro il patriarcato e contro i standard di bellezza imposti da questi uomini cattivi ok quindi in pratica secondo loro è questa visione di comprensione del mondo degna la primo anno di elementari Kamala è donna Kamala è buona le donne sono buone e votano per lei Trump cattivo uomini votano Trump quindi uomini cattivi e visto che ha vinto la squadra di maschi adesso la squadra delle femmine si ribella mentre in realtà quando guardiamo un po' di dati scopriamo che sì è vero che chi ha votato Trump sono per la maggior parte uomini ma la differenza è relativamente piccola rispetto alle donne cambiando ovviamente di stato in stato è sempre comunque vicina al 50% non è mai 90% uomini contro 10% donne in più per le statistiche che guardano anche l'etnia scopriamo che per esempio la maggior parte delle donne bianche ha votato per Trump e non per Kamala ma ovviamente come per ogni singola cosa che succede nel mondo per queste tiktoker quando le cose non vanno a loro favore non importa la realtà dei fatti ma puntano il dito contro gli uomini e danno la colpa loro allora questa è una delle cose più ridicole che io abbia mai sentito cioè proviamo per un attimo a ricapitolare e capire questo loro ragionamento queste ragazze volevano che vincesse Kamala la maggior parte degli uomini e donne votano Trump loro danno la colpa a tutti gli uomini e al patriarcato e come protesta decidono di smettere di avere rapporti con gli uomini ha senso ha assolutamente molto senso e le cose adesso cambieranno allora cercherò di dirlo nel modo più gentile possibile non solo questa operazione non ha alcun senso e non avrà nessun beneficio per loro ma è un enorme favore che stanno facendo a quelli che tanto odiano prima di tutto quelli che hanno votato Trump è molto probabile che siano conservatori dunque è probabile che siano anche poco a favore della cultura e dei rapporti occasionali e che vuol dire che se il primo step della protesta è smetteremo di avere rapporti con gente a caso la risposta più probabile che ti dirà chi ha votato Trump è ok brava Trump è appena stato eletto e già sta migliorando la cultura seconda cosa come abbiamo visto già un enorme numero di donne ha votato per Trump e di quelle che non l'hanno votato solamente una piccola parte la più estremista e misandrica prenderà davvero parte a questo movimento il che vuol dire che non ci sarà nessun tipo di effetto su larga scala se non aver rimosso dal mondo del dating dei ragazzi più estremiste e che comunque nessun fan di Trump avrebbe voluto frequentare terza cosa questo è un inutile trend di TikTok importato dalla quella del sud che ha condizioni completamente diverse e adesso queste tiktoker stanno piangendo perché volevano che vincesse Kamala solamente perché è donna ha perso e si sfogano così praticamente nessuno di loro seguirà davvero queste regole e se ne dimenticheranno dopo una settimana e quarto punto se davvero decidessero di seguirle e lo facessero per tutta la loro vita se tutte loro smettessero di avere relazioni con gli uomini e quindi avere anche dei figli nel lungo periodo quello che succederà è che solamente chi è già supporter di Trump comunque conservatore repubblicano farà figli che li educherà con i suoi valori e repubblicani saranno stradominanti quindi boh un'iniziativa che non sta veramente in piedi e fa ridere onestamente cioè se proprio vuoi fare una protesta puoi non so organizzare uno sciopero collettivo di tutte le donne o perlomeno quelle che la pensano come te per dimostrare effettivamente quanto è importante il vostro contributo ma no la protesta è smettere avere rapporti casuali con gli uomini in ogni caso dai per oggi direi che è tutto quindi passo la parola a voi nei commenti io ringrazio tutti gli abbonati per il loro importantissimo supporto se volete potete seguirmi anche su Instagram il link è nel primo commento e noi direi che ci becchiamo alla prossima grazie a tutti